Vidi poi una bestia che saliva dal mare. Aveva dieci corna e sette teste. Sulle corna avevano dieci diademi e le teste portavano nomi blasfemi. La bestia che vidi somigliava ad una pantera, mentre le zampe sembravano di orso e la bocca di leone. Il dragone comunicò ad essa la propria potenza e il suo trono con potestà grande. Ora una delle teste appariva come colpita a morte, ma la sua ferita mortale fu guarita. Per questo tutta la terra fu presa l'ammirazione per la bestia e si mise ad adorare il dragone che aveva dato un tale potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa. Alla bestia fu data una bocca che proferiva parole orgogliose e blasfeme e le fu concesso di operare per lo spazio di 42 mesi. Così aprì la sua bocca blasfema contro Dio, lanciando bestemmie contro il nome e la dimora di lui, contro tutti gli abitanti del cielo. Le fu dato potere di far guerra ai santi e vincerli e le fu data potestà su ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra il cui nome fin dall'origine del mondo non sta scritto nel libro della vita dell'agnello imolato. Chi ha orecchi ascolti. Se uno è destinato alla prigione vada in prigione. Se uno con la spada uccide con la spada deve essere ucciso. In ciò sta la pazienza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia salire dalla terra. Aveva due corna come un agnello, ma parlava come un dragone. Esercitava tutta l'autorità della prima bestia per conto di essa. S'adoperava infatti che la terra e tutti i suoi abitanti si prostrassero davanti alla prima bestia, la cui ferita mortale era stata guarita. Faceva prodigi strabilianti, al punto da far discendere dal cielo sulla terra il fuoco e ciò sotto gli occhi degli uomini. Così traeva in inganno gli abitanti della terra, con i portenti che aveva il potere di fare a servizio della bestia. Spingeva infatti gli abitanti della terra a dirigere un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada e poi aveva ripreso vita. Quindi fu dato ad essa di infondere lo spirito al simulacro della bestia, in modo che questa potesse parlare. Quanti non avessero voluto adorare l'immagine della bestia, ordinava che fossero uccisi. S'adoperava inoltre che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse impresso sulla loro mano destra o sulla fronte, un marchio, in modo che nessuno potesse comprare o vendere all'infuori di coloro che portavano il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha mente computi il numero della bestia? È un numero d'uomo. Il suo numero è 666.